Una Blue Community è un percorso che le comunità locali intraprendono per organizzarsi in difesa dell'acqua come bene comune e diritto umano. Le persone nei territori, nelle scuole, nelle università, gli enti e le organizzazioni si raccolgono per prendersi cura collettivamente dell'acqua. Una Blue Community nasce attraverso lo sviluppo di quattro fasi. L'aggregazione e l'avvio, la conoscenza dell'acqua, il diventare propriamente una Blue Community e l'operatività. Nella fase di aggregazione e avvio, una singola persona o un gruppo interessati a prendersi cura dell'acqua, decidono di dare avvio a una Blue Community. Partono così alla ricerca di nuovi membri o associazioni interessati a prendere parte a un'esperienza comunitaria per la protezione delle risorse idriche, per condividere le rispettive esperienze sull'acqua e definire i valori comuni che guideranno le azioni future. La diffusione degli appelli può avvenire attraverso incontri e riunioni, assemblee d'istituto, messaggi sui social, sui siti o incontri informali. La fase successiva consiste nella conoscenza dell'acqua nel proprio contesto di riferimento, il proprio comune, la scuola o il posto di lavoro. Si conoscono così gli ecosistemi, gli usi e gli attori per individuare chi gestisce e chi utilizza l'acqua che ci circonda. Il diventare propriamente una Blue Community rappresenta la fase costruttiva del progetto, in cui i gruppi mettono in campo le azioni volte al miglioramento della situazione idrica del proprio territorio. Tra le molteplici tipologie di comunità che possono nascere, alcuni esempi sono la Blue Community scolastica e territoriale. La prima nasce all'interno di scuole e università per educare alla riduzione dei consumi diretti e indiretti di acqua, mentre la seconda nasce per prendere impegni concreti per la cura dell'acqua grazie ai comuni e alle associazioni legate all'acqua. L'operatività è la fase finale, dove la comunità mette in campo le azioni scelte per la cura dell'acqua e organizza alcune attività ricorrenti, come incontri pubblici, assemblee annuali ed eventi per la giornata mondiale dell'acqua. Queste azioni possono essere accompagnate da fasi di studio e ricerca, campagne di sensibilizzazione e monitoraggio costante anche attraverso sondaggi dei risultati della community. Che ci si unisca tra i banchi di scuola o tra le fila del comune, ciò che è importante è il supporto collettivo per il successo delle Blue Communities. Fare rete è fondamentale per salvare il bene più prezioso che possediamo. Per scoprire di più, visita il sito.